Annullata l'amichevole che Biancazzurri avrebbero dovuto disputare sabato poveriggio a Loreto a Prutino. Cambio di programma, Zeman sempre nella giornata di sabato ha infatti optato per una doppia seduta a Silvi Marina. Sta molto meglio Mora, ormai completamente recuperato, prossimo al rientro in gruppo anche Vergani. Playoff, c'è ancora tempo, nel primo turno della fase nazionale Pescara in campo giovedì 18 maggio, andata in trasferta, il ritorno all'Adriatico lunedì 22 maggio. L'avversario sarà definito tramite sorteggio. Brosco e compagni saranno test di serie, due risultati su tre a disposizione in caso di parità al novantesimo. Non sono previsti i supplementari. Pescara ai quarti. Per Filippo Pellacani il grave infortunio al ginocchio è solo un brutto ricordo. Centrale di difesa ma calciatore particolarmente duttile. L'ex Virtus Verona è stato impiegato da Zeman anche nel ruolo di terzino. Così il difensore biancazzurro al microfono di Enrico Giancarli. Ma dove mi metto mi va bene, dai. Non mi importa il ruolo, l'importante appunto è fare minuti che mi aiuta sicuramente. Meglio saper fare più ruoli, dai, piuttosto che farne solo uno. Però fare il terzino con Zeman vuol dire correre. Eh vabbè dai, bisogna correre, ormai il calcio moderno è quello, quindi ci si diverte anche. Nel playoff, che cosa ti aspetti Filippo? Ma siamo una bella squadra, bella compatta, unita, crema tutto dalla stessa parte. Possiamo dare fastidio a tutti, non siamo secondo me inferiori a nessuno, l'abbiamo dimostrato in campionato. Quando siamo andati anche per esempio a Catanzaro a fare risultato, a portare caso a punti. Quindi diremo sicuramente la nostra. L'ultima, un nome uno, una squadra che secondo te parte più in avanti di tutte sui playoff? Ma magari un po' il Crotone e il Cesena, le metto quelle due lì. Forse il Cesena magari per l'allenatore che è abituato comunque alla categoria è tutto. Intanto è ufficiale, nei playoff della stagione in corso ci sarà il VAR. A confermare la notizia è stato direttamente il responsabile e designatore degli arbitri della Lega Pro, Maurizio Ciampi, che ha dichiarato testualmente il VAR sarà un supporto utile, dato che quest'anno gli errori sono stati veramente tanti. Grazie a tutti.